Devo dirvi che questa giornata, in questo momento, anche se gli attori sono dei gran bugiardi, dicono bugie, noi tutti, però credetemi, credetemi, io in questo momento sono emozionata come ad una prima teatrale. Una lunghissima carriera teatrale, cominciata più di 60 anni fa sulle scene con Edoardo De Filippo e completata poi col cinema, da Liliana Cavani a Luigi Magni e con la televisione. Anna Maria Ackerman ha ricevuto questa mattina l'attestato di benemerenza della città di Napoli consegnato dall'assessore alla cultura Nino Daniele. Un'attrice straordinaria, si legge nella motivazione, che con tutta la sua carriera artistica si fa rappresentante di Napoli, della sua cultura, della sua vivacità. Tutto il teatro di Edoardo che io ho fatto in età molto, molto giovanile, era una ragazzina e lui mi ha insegnato veramente tutto. Dunque gli spettacoli che facevo con lui erano una gioia, in otto anni ho imparato tanto, però uno spettacolo poi nella maturità della mia vita artistica è stato lo spettacolo di Roberto Di Simone, dove facevo un ruolo molto insolito per me, una plebea laida, terribile, una plebea incredibile e tutti dicevano anche i miei amici no ma tu non puoi fare questa Anna Maria, ma non è il ruolo tuo e invece l'ho fatto per tre anni con un successo strepitoso e lo ricordo sempre con grande grande affetto. ma naturalmente quando si hanno poi delle persone geniali, Edoardo in primis come Roberto Di Simone che è un genio della musica e dello spettacolo, forse se si ha un briciolo di talento con una guida molto forte è qualche cosa si deve pur dare. Sulla carriera teatrale della Ackerman il giornalista Ermanno Corsi ha pronunciato la sua l'audazio, il discorso elogiativo che ha raccontato anche ai più giovani il percorso artistico della popolare attrice napoletana. Non c'è stato testo teatrale che a lei fosse impedito dalla tragedia greca al teatro d'avanguardia, al teatro sperimentale o al teatro di impegno civile, quindi lei ha affrontato tutto questo con la sua particolare capacità di avere non soltanto una voce e una bella e avvincente tonalità, ma anche una grammatica e una sintassi. Io quello che trovo sempre quando ascolto Anna Maria Ackerman è che lei è come se fosse il filo di Arianna per l'ascoltatore che di fronte a un testo potrebbe rimanere smarrito, lei invece fa capire bene le scansioni del testo, perché è la sua intelligenza, quella capacità che lei aveva e che riassume nella formula, l'attore serio deve innanzitutto capire l'intenzione dell'autore. Un doveroso riconoscimento ad una grande interprete del teatro napoletano, che non dimentichiamo è uno dei teatri più importanti d'Europa e del mondo, dando così concreta attuazione a un'indicazione, a una linea del nostro sindaco, quello di dare attraverso queste belle figure di cui siamo orgogliosi come città, esempi alle nostre nuove generazioni, ai nostri giovani che possono trovare nella loro storia, nel loro impegno, nella loro tenacia anche un esempio e modelli perché insieme si possa costruire un futuro diverso per la nostra città. In quel cielo alto dove la sua anima vive e da dove, signori, voi non la strapperete mai.